Ok, nell'ultima lezione avevamo discusso il comportamento intrinseco dei semiconduttori, cioè questo regime di temperature abbastanza alte, per cui tutto sommato la presenza di difetti, di impurezze sia abbastanza irrilevante. Avevamo valutato che questo regime intrinseco, per esempio a temperatura ambiente, si realizza quando la concentrazione di queste impurezze risulta minore di, per esempio, 10 al meno 16 al metro cubo nel silicio, o 10 alla 19 al metro cubo nel Germania. E questo comportamento, per l'appunto, fa sì che rende rilevante le citazioni termiche di elettroni dalla banda di balenza a quella di conduzione, rende di fatto irrelevante la presenza di queste impurezze. Naturalmente, per ottenere livelli di purezza di questo tipo qua, abbiamo visto che sono necessarie delle tecniche raffinate per procurarsi appunto dei semiconduttori così puri. A questo punto, invece, andiamo a studiare la situazione dei semiconduttori estrinseci, al contrario di intrinseci, cioè la situazione in cui le impurezze hanno un ruolo, sono dominanti, la presenza di portatori di carica legati all'impurezze diventa significativa rispetto a quelli di eccitazione termica, i semiconduttori, quindi i drogati. Per studiare questo comportamento estrinseco, vi avevo anticipato la volta scorsa, l'equazione fondamentale che gestisce la situazione è l'equazione della neutralità di carica. Quella che vi dice che all'interno del bulk di un materiale la densità media di carica elettrica deve per forza fare zero. Vi ricordate quando abbiamo studiato, per esempio, il modello a gelio, proprio il background positivo aveva il ruolo di far sì che l'energia elettrostatica desse vari contributi, tutti quanti che nel limite termodinamico tendevano all'infinito come il volume al quadrato, ma che si cancellavano completamente a patto che la densità di cariche positive del gelio compensasse esattamente la densità di cariche negative degli elettroni. E qua il ragionamento è esattamente lo stesso. Noi non vogliamo avere una densità di cariche nette dentro al bulk di un materiale. E quindi di fatto andiamo a imporre che la densità totale di cariche negative per unità di volume sia esattamente uguale alla densità di cariche positive per unità di volume. Le cariche negative sono chi? Beh, gli elettroni in banda di conduzione, che hanno una densità che abbiamo chiamato N piccolo, e chi altro? Beh, anche gli stati localizzati di accettore, quelli legati alle impurezze trivalenti e che sono degli stati localizzati vicino alla banda di valenza, quando sono ionizzati, cioè quando c'è dentro un elettrone in più, cioè quando, se volete, non c'è dentro la lacuna. Poi si diventano ancora delle cariche negative e quindi vanno contate anche loro nella densità di cariche negative. Le cariche positive, invece, sono le lacune in banda di valenza, la cui densità volumetrica abbiamo chiamato P, e anche la densità volumetrica di stati di donore, cioè stati legati alle impurezze pentavalenti, vicino al bordo della banda di conduzione, quando queste sono ionizzate, quando in qualche modo l'elettrone, che dovrebbe stare lì, in situazioni normali, in realtà se ne è andato via, o perché se ne è andato in banda di conduzione, o perché è andato a riempire, per esempio, un livello di accettore, non importa, in ogni caso, quando l'elettrone non c'è, sono stati vuoti e c'è una carica positiva addizionale che è quella legata al nucleo. Il nucleo pentavalente è una carica positiva. Ok, allora, diciamo, l'equazione che va risolta è questa, e noi abbiamo già delle espressioni per la densità di portatore di carica elettroni e per la portatore di carica lacune. Sono due espressioni che abbiamo visto l'altra volta e sono funzioni della temperatura e del potenziale chimico. ecco qua, quella per P, nv è la meno mu diviso kbt e poi l'analoga per l'n, nc per la mu meno, in fondo della banda di conduzione, diviso kbt. Quindi, a patto di sapere mu, queste densità di portatori le sappiamo. le analoghe equazioni per il numero di stati localizzati ionizzati, quindi n di più ed n a meno, queste le ricaviamo utilizzando la normale statistica fermionica. Incominciamo con gli stati vicini alla banda di valenza, degli accettori. Quanti sono gli elettroni che stanno in questi stati? Ma, diciamo, sono andati semplicemente dal numero di questi stati, che sono tutti alla stessa energia, l'energia Ea al di sopra del massimo della banda di valenza, moltiplicata per il numero medio di elettroni che stanno in ognuno di questi stati, che è la funzione di Fermi, F. Quindi F calcolata a quell'energia, il cime della banda di valenza, più Ea, cioè il livello, torniamo a vedere la figura con i livelli, boh, anche questo in realtà va bene, quindi qua, dove abbiamo un certo valore della funzione di Fermi, lo moltiplichiamo per il numero n a di livelli che abbiamo qua e otteniamo il numero di questi livelli che sono carichi negativamente, in cui c'è effettivamente un elettroni. Analogamente, per sapere quanti sono carichi positivamente dei livelli di nonore, dobbiamo vedere quanti sono vuoti, quindi dovremmo andare a moltiplicare la densità numerica di questi livelli per 1-F, quindi complementare a 1, la distanza da 1 che ha l'occupazione di questi livelli. Notate che qui non faccio nessuna approssimazione sulla funzione di Fermi, come invece ho fatto quando si trattava di andare a calcolarsi i numeri di portatori nella banda di conduzione, nella banda di valenza. E il motivo è che qua noi non possiamo assumere, come invece abbiamo fatto in quel caso lì, che il potenziale chimico sia lontano. Nel calcolo di N e di P che abbiamo discusso la volta scorsa, abbiamo detto, va, probabilmente nella maggior parte dei casi pratici, il potenziale chimico mu differirà dal fondo della banda di conduzione e dal cima della banda di valenza di una quantità maggiore di un paio di volte KVT in quasi ogni caso. E quindi abbiamo fatto l'approssimazione di trascurare il famoso 1 dentro nella funzione di Fermi. Qua non c'è modo di farlo, quindi qua dobbiamo esattamente utilizzare proprio esattamente l'espressione della funzione di Fermi senza fare l'approssimazione. Va bene, a questo punto possiamo inserire tutte queste varie espressioni in questa formula qua ottenendo un'equazione in cui l'unica incognita è il potenziale chimico e vi avevo segnalato lo script tra i miei script sulla pagina web che poi solve numericamente questa equazione. In effetti però, diciamo, prima di vedere un attimino la soluzione numerica, forse ci conviene chiarire almeno i casi limite facili che si possono capire analiticamente senza grosse difficoltà. Dunque, il caso tecnologicamente più standard rilevante è quello in cui in un semiconduttore ci sono presenti allo stesso momento impurezze di entrambi i tipi, cioè di tipo accettore e di tipo donore allo stesso tempo. Semplicemente ci sarà uno dei due tipi che ha una concentrazione più alta dell'altro. Per esempio, immaginiamo che sia il numero di donori che va a superare il numero di accettori. Quindi ci sono più donori per unità di volume che accettori. Allora, in questa situazione immaginando di stare per esempio a t uguale 0, allo 0 assoluto, avremo che, torniamo a vedere il nostro diagramma di livelli qua, allo 0 assoluto questa funzione di Fermi tende a diventare una funzione a scalino con stati occupati, esattamente occupati al di sotto del potenziale chimico e stati esattamente vuoti al di sopra del potenziale chimico. D'altra parte, se abbiamo più donori che accettori, vorrà dire che ci saranno senz'altro abbastanza elettroni in aggiunta legati a questi stati di donore per andare a riempire tutti quanti i livelli di accettore. E pertanto, necessariamente il potenziale chimico si sposterà in su e raggiungerà questo livello qua di donore. Perché a questo punto rimarranno proprio gli stati di donore a essere parzialmente occupati. Tutti gli stati di valenza e tutti gli stati di accettore saranno completamente pieni. Gli stati di donore saranno occupati in numero ND meno NA perché NA elettroni si sono spostati nel livello di accettore e la banda di conduzione sarà esattamente vuota. D'accordo? Quindi allo zero assoluto sappiamo dove sta il potenziale chimico. Sta necessariamente qua in coincidenza con il livello di donore. Anche a temperature molto basse questa funzione di occupazione si sborderà leggermente ma fin tanto che KBT rimane molto più basso dell'energia ED cioè del salto di energia tra il livello di donore e la banda di conduzione di fatto questa banda rimarrà quasi completamente vuota e il potenziale chimico continuerà a rimanere lì non si muoverà. D'accordo? Quindi a temperature estremamente basse vicino allo zero assoluto il potenziale chimico rimane pinnato sul livello del donore. Ok. Dopodiché una volta che diciamo questa è quella che succede in quelli che si chiamano materiali di tipo N quindi a temperature basse nei materiali di tipo N in cui sono dominanti i donori rispetto agli accettori il potenziale chimico si va a piazzare sul livello di donore e abbiamo quelli che si chiamano portatori di maggioranza che saranno gli elettroni in banda di conduzione quindi la prima cosa che succede appena la temperatura è diversa da zero è che qualche elettrone va a eccitarsi dal livello di impurezza alla banda di conduzione col potenziale chimico che rimane più o meno lì. e in effetti quanti saranno questi elettroni li valutiamo subito con questa formula qua il potenziale chimico è bloccato sul livello del donore e quindi diciamo c'è un salto di energia che è proprio εd o edi insomma diviso kVt e almeno questo vi dà la probabilità di venire citato nel livello di conduzione e il numero di stati efficaci nel livello di conduzione è questa quantità nc che vi ricordate è una funzione della temperatura abbastanza grande. ok quindi questo è quello che succede in quelli che si chiamano materiali di tipo n in cui a bassa temperatura essenzialmente ci sono soltanto elettroni in banda di conduzione e praticamente zero lacune in banda di valenza naturalmente c'è anche la situazione opposta quella in cui invece ci siano più stati di accettore che impurezza di donore in questo caso nella situazione diventa opposta il potenziale chimico va a pinnarsi sul livello di accettore e quindi a bassa temperatura la prima cosa che succede è che vengono eccitate un piccolo numero di lacune nella banda di valenza e quindi diventano portatori di maggioranza le lacune in questo caso e parleremo di un materiale di tipo P in questo caso. Va bene? Ok, quindi queste sono le due grandi classi di semiconduttori estrinseci drogati tipo n o tipo p a seconda che il potenziale chimico a bassa temperatura vada a piazzarsi vicino alla banda di conduzione o valenza rispettivamente. A questo punto però vediamo un attimino di tornare ai semiconduttori di tipo n cioè quelli in cui il potenziale chimico è vicino alla banda di conduzione e vediamo che succede quando cominciamo ad alzare di più la temperatura cioè quando KBT comincia a diventare confrontabile con la distanza tra i livelli di donore e il fondo della banda di conduzione. A questo punto quello che succede è che aumentando la temperatura piano piano il numero nc di stati efficaci nella banda di conduzione comincia a diventare abbastanza grande e tipicamente più grande perfino che nd o che nd-a. Quando questo succede per pure ragioni entropiche semplicemente perché ci sono più stati nella banda di conduzione che livelli di impurezza in pratica è più facile che un elettrone vada a piazzarsi nella banda di conduzione che nei livelli di impurezza. Semplicemente ci sono più stati quindi le somme di Boltzmann se vogliamo rendono più probabile questi stati qua pur essendo energia più alta avendosi mostruosamente più stati in banda di conduzione che nei livelli di impurezza in sostanza diventa comunque più probabile andare a mettere un elettrone in questi stati più eccitati rispetto ai livelli un pochino più bassi di energia che sono quelli dei donori. Allora in questa situazione qua di fatto i livelli di donore tendono a essere modestamente occupati e perché questo succeda necessariamente il potenziale chimico deve abbassarsi deve abbassarsi al di sotto del livello dei donori quindi quello che succede quando la temperatura si alza è che il potenziale chimico che prima era bloccato qua pian pianino si sposta in giù e tutti questi livelli diventano non proprio tutti ma insomma in buona parte praticamente vuoti e la maggior parte degli elettroni praticamente tutti gli elettroni messi a disposizione dalle impurezze che sono di nuovo ND-A per unità di volume vengono in pratica portati nella banda di conduzione quindi sostanzialmente nella banda di conduzione ci troviamo ad avere un numero di elettroni che è sostanzialmente dettato dal livello di doping che è una proprietà legata alla fabbricazione del cristallo un cristallo c'è dentro una certa concentrazione di donore una certa concentrazione di accettori che uno può fissare a livello di fabbricazione quando lo costruisce di fatto quindi uno è in grado di controllare quanti sono questi elettroni nella banda di conduzione a livello di fabbricazione del cristallo e la roba divertente insomma il fatto divertente di questa situazione qua è che c'è un intero intervallo di temperature in cui questa concentrazione varia relativamente poco cioè rimane circa uguale a ND-NA la concentrazione di elettroni N nella banda di conduzione rimane circa ND-NA per un vasto intervallo di temperatura che diciamo per opportuni livelli di doping regolabili su vasto range in effetti va a coprire anche la temperatura ambiente in tutto questo intervallo quello che succede è che man mano che la temperatura cresce il potenziale chimico si sposta in giù verso la metà del gap ma mentre il potenziale chimico si sposta in giù il numero di elettroni che c'è qua sopra rimane circa costante cioè il potenziale chimico si sposta in giù ma contemporaneamente KBT aumenta facendo sì che alla fine il numero totale di elettroni qua sopra rimanga più o meno costante a un certo punto si raggiunge una temperatura per cui il potenziale chimico si trova praticamente a metà del gap e una temperatura che risulta a questo punto tanto alta per cui diventa possibile cominciare a eccitare elettroni dalla banda di valenza nella banda di conduzione questo è il momento in cui entra in azione il meccanismo intrinseco delle eccitazioni quello che si avrebbe nel semiconduttore puro e a questo punto il numero di portatori sia in banda di conduzione che in banda di valenza crescono rapidamente con la temperatura questo è il comportamento intrinseco di cui abbiamo già parlato la volta scorsa una rapida crescita nel numero di portatori per unità di volume con la temperatura va bene quindi questo è quanto succede a alta temperatura e qua un paio di figurette che riassumono questa cosa qua in cui viene plottato vedete uno fratto la temperatura qua in Kelvin alla meno uno e in questa prima figura viene plottato il potenziale chimico diciamo questi numeri queste formulette qua sono scritte nella gauge diciamo in cui il top della banda di valenza sta a zero e qua c'è la conversione in unità arbitraie con uno zero arbitraio allora vedete che a temperature molto basse cioè uno su T molto alto si si trova il potenziale chimico perfettamente agganciato al livello di impurezza poi man mano che aumentate la temperatura quindi riducete uno su T il potenziale chimico comincia a spostarsi in giù ad allontanarsi da questo livello e finalmente a temperature molto alte ad un certo punto viene raggiunto il comportamento intrinseco quindi il potenziale chimico vicino a una metà del gap qua c'è pure un'espressione che è quella che avevamo già discusso l'altra volta per il potenziale chimico nel caso intrinseco in cui il numero di elettroni in banda di conduzione e di lacune in banda di valenza cerca lo stesso vi ricordate questa forma ok in corrispondenza a questo comportamento del potenziale chimico qui c'è l'analogo andamento del densità degli elettroni c'è questo andamento circa esponenziale con energia di eccitazione che è la distanza tra il livello di donore e il fondo della banda di conduzione dato da questo andamento qua e vedete questo andamento praticamente in una scala log 1 su t che è quello che si chiama un plot di Arrhenius corrisponde ad un andamento all'incirca lineare dico all'incirca perché non è che nc sia proprio una costante anche nc dipende dalla temperatura quindi questo andamento non è precisamente una retta però all'incirca dopodiché si raggiunge appunto questa temperatura in cui praticamente tutti i donori sono ionizzati e a questo punto c'è tutto questo ampio plateau di temperature in cui la concentrazione dell'elettrone in banda di conduzione rimane praticamente costante finalmente si arriva alle temperature in cui il potenziale chimico si è avvicinato alla metà del gap e a questo punto scatta il comportamento intrinseco questa seconda curva è la concentrazione delle lacune che è mostruosamente bassa in tutta la regione in cui sono dominanti gli elettroni in banda di conduzione vi ricordate vale sempre la famosa legge di azione di massa per cui il prodotto n per p è costante è costante insomma è una quantità fissata dalla temperatura e dalle proprietà termodinamiche del materiale e quindi più alto n più piccolo è p quindi in questa regione qua p è fortemente soppresso ma nel momento in cui si arriva a questo regime intrinseco di fatto queste due quantità diventano quasi uguali e salgono molto rapidamente insieme in questo regime di alta temperatura va bene io sfruttando lo script che vi ho passato ho fatto una figura analoga in cui invece che mettere la scala 1 fratto T che mette in evidenza questi comportamenti a Regnus ho messo una normale scala di temperatura che in qualche modo fornisce un messaggio leggermente forse più chiaro dal punto di vista pratico della situazione allora di nuovo qua c'è il potenziale chimico che a bassa temperatura sta vicino ai livelli di impurezza questo diciamo i dati sono per il caso del silicio quindi il gap di circa 1,1 elettronvolt banda di condizione banda di valenza ho preso zero come hanno fatto loro quindi al top della banda di valenza come è Huck e Hall e vedete che appunto man mano che poi aumenta la temperatura a partire da qualche decina di gradi Kelvin il potenziale chimico plana giù fino verso la metà del gap e a questo punto entra in azione il comportamento intrinseco che vedete ancora meglio nel numero nella concentrazione dei portatori qua ho considerato una situazione in cui la densità di atomi donori è 1,5 per 10,20 al metro cubo la densità degli acertori è molto più piccola mi sembra una cosa tipo 10 alla 17 al metro cubo tipo mille volte più piccola e di fatto quindi vi ritrovate in una situazione in cui qui avete quasi tutti gli elettroni agganciati ai livelli di impurezza arrivate qua gli elettroni vanno a trovarsi quasi tutti gli elettroni forniti dall'impurezza vanno a trovarsi quasi tutti nella banda di conduzione e questa concentrazione di elettroni rimane stabile per un vasto range di temperature da tipo 50 Kelvin a 400 Kelvin che in particolare vedete copre la temperatura ambiente dopodiché quando cominciate a superare i 450 Kelvin a questo punto i portatori di minoranza che sono le lacune e i portatori di maggioranza che sono gli elettroni questo semiconduttore l'organizzatore N diventano in numero molto simile e a questo punto diciamo entriamo nel comportamento intrinseco ok va bene allora diciamo l'aspetto interessante dal punto di vista tecnologico è che controllando a livello di fabbricazione del cristallo le densità delle impurezze uno è in grado di costruirsi una specie di metallo diciamo un metallo a bassa densità in cui questa densità degli elettroni del metallo tra virgolette risulta di fatto fissata a priori a tavolino uno può decidere a tavolino decidendo di quanto va a drogare quant'è la concentrazione dei droganti nel suo semiconduttore questa è una situazione completamente diversa da quella che si ha nei veri metalli se uno prende un vero metallo tipo fodio per esempio il sodio ha una sua densità di elettroni tipo dell'ordine di 10 alla 28 10 alla 29 elettroni al metro cubo che è fissata dalla struttura cristallina ogni atomo di sodio ha un elettrone non c'è niente da fare non è che mettendoci qualche impurezza uno può cambiare la densità degli elettroni significativamente invece nei semiconduttori sì con un piccolissimo livello di impurezza questa è una piccolissima frazione di atomi droganti uno può controllare in maniera molto precisa la concentrazione degli elettroni nella banda di condizione analogamente in un semiconduttore drogato P cioè con una prevalenza di accettori uno regola con precisione la concentrazione delle lacune della banda di valenza va bene ok allora queste cose le abbiamo già discusse magari volevo dire qualcosina giusto su un su un caso particolare che è quello del del semiconduttore drogato con un solo tipo di impurezza questo è molto improbabile diciamo nella maggior parte dei casi non succede però è possibile fare dei cristalli drogati solo con impurezza di un tipo per esempio solo con donori e non con accettori in questo caso non essendoci accettori uno si trova anche a temperatura nulla con i livelli di donore che sono interamente pieni nessuno degli elettroni ha avuto modo di spostarsi giù negli stati di accettori semplicemente perché non ci sono a questo punto quindi il livello di donore risulta completamente pieno e pertanto non può esserci lì il potenziale chimico il potenziale chimico in questo caso dovrà stare tra il livello di donore e il fondo della banda di conduzione quindi riguardiamo la figuretta questa invece che stare piantato qua il potenziale chimico come nel caso più comune in questa situazione in cui non ci sono livelli di accettori Na uguale a 0 uno si trova il potenziale chimico piazzato qua non è che sia la gran differenza naturalmente perché questo salto di energia è piccolissimo però uno si trova un potenziale chimico qua invece che qua qualcosina di differenza fa in effetti viene a cambiare il comportamento alle bassissime temperature cioè se uno va a misurarsi quanti elettroni ci sono in banda di conduzione nei due casi ce ne sono di più nel caso in cui non ci sono gli accettori del tutto una situazione più alta se uno va a vedersi le formule c'è un fattore 2 davanti al KBT vediamolo un attimo eccolo qua in pratica ecco la diciamo la concentrazione a bassa temperatura degli elettroni in banda di conduzione si trova con una formula leggermente diversa in cui qua c'è un 2 che non c'era prima che di fatto vi stabilisce la distanza tra il fondo della banda di conduzione e il potenziale chimico che è la metà rispetto a prima è ed i mezzi invece che ed i a parte questo che insomma è un piccolo dettaglio che immagino dimenticherete quanto prima abbiamo un attimino un chiaro diciamo modo di farci l'idea di quanti sono di come sono le concentrazioni degli elettroni e delle lacune nei semiconduttori anche nel caso intrinseco a questo punto la questione qua sull'assorbimento e l'interazione con la radiazione elettromagnetica l'abbiamo già discussa un paio di lezioni fa quindi non ci torneremo su di nuovo ci sono semiconduttori diretti e indiretti con gap diretti e gap indiretti e quindi hanno questi diversi inghippi sulla possibilità di assorbire radiazione alle diverse frequenze in particolare a frequenze vicine all'ampiezza del gap quello che invece volevo raccontarvi oggi sono le proprietà di trasporto elettrico in particolare da parte degli elettroni nei semiconduttori e beh diciamo l'idea è che gli elettroni nei semiconduttori sono elettroni nei cristalli e per essi continuano a valere le equazioni semiclassiche per il moto che avevamo discusso quando abbiamo parlato di metalli in realtà diciamo continuano a valere altrettanto bene per gli elettroni nei semiconduttori si tratta pur sempre di cristalli con delle bande bene allora l'idea è che uno può andare a descrivere separatamente il moto degli elettroni in banda di conduzione e il moto delle lacune nella banda di valenza quindi di fatto questi semiconduttori in pratica li possiamo approssimativamente trattare come dei metalli a due bande se vogliamo in cui si muovono separatamente e indipendentemente gli elettroni nella banda di conduzione e anche le lacune nella banda di valenza uno potrebbe dire ma come queste sono particelle cariche interagiranno pure tra di loro un elettrone e una lacuna dovrebbero attirarsi sì vero ma in realtà abbiamo degli oggetti fortemente delocalizzati questi elettroni queste lacune in effetti sono degli oggetti sono dei pacchetti d'onda sparpagliati sopra molte celle del reticolo quindi sono oggetti fortemente delocalizzati e che si muovono in un mondo dove c'è una costante di elettrica relativa molto grande quindi i campi elettrici con cui questi interagirebbero e potrebbero attirarsi tra di loro sono fortemente ridotti e schermati da questa costante di elettrica infatti l'abbiamo visto anche a proposito di quanto poco gli stati se vogliamo le cariche nucleari aggiuntive legate all'impurezza riescano ad attirare l'elettrone o la lacuna corrispondente quindi ci sono energie di legame colombiane estremamente basse proprio a causa di questa schermatura quindi è del tutto ragionevole in prima approssimazione trascurare completamente le interazioni tra elettroni e lacune e quindi questi si muoveranno seguendo delle equazioni indipendenti in cui di fatto uno potrà andare semplicemente a vedere il moto medio di questi elettroni e di queste lacune quindi introdurre una quantità velocità degli elettroni e velocità delle lacune che è semplicemente quella media di queste quantità la velocità di drift se vogliamo per questa velocità di drift varrà un'equazione semiclassica simile a quella che abbiamo descritto in precedenza per gli elettroni di metalli in cui c'è diciamo un termine legato alla massa e quindi all'accelerazione c'è un termine che descrive le forze elettriche esterne dovute a campi elettrici e campi magnetici questa è la solita forza elettrica questa è la forza di Lorentz e poi c'è un termine legato alle collisioni questo tau e è la vita media diciamo di un elettrone tra una collisione e l'altra esattamente come nei metalli le sorgenti di collisioni che sentono gli elettroni e anche le lacune naturalmente nelle bande dei semiconduttori sono le collisioni con i difetti cristallini e in particolare chiaramente nei semiconduttori drogati un particolare tipo di difetti sono per l'appunto le impurezze di queste non si può fare a meno visto che li abbiamo messi li mettiamo apposta per drogarli e controllare la densità dei portatori e anche naturalmente i foroni le vibrazioni i foroni sono sempre più importanti all'aumentare della temperatura mentre l'effetto delle collisioni con i difetti è meno dipendente della temperatura nel caso dei semiconduttori un pochettino lo è dipendente della temperatura ma comunque lo è senza altro meno che l'effetto dei foroni ok questa è l'equazione per gli elettroni questa è l'equazione per le lacune naturalmente ci sono la differenza principale che è quella legata al segno della carica le lacune si comportano come delle cariche positive ci sono poi delle altre differenze di dettaglio che corrispondono al fatto di avere delle diverse masse efficaci questa che qua mi chiamate me insomma è la massa in banda di conduzione legata alla curvatura della banda di conduzione qua è la massa delle lacune legata alla curvatura della banda di valenza ma cambiata di segno in modo che sia positiva e anche in generale un diverso tempo di collisione non c'è motivo per cui elettroni in banda di conduzione e lacuni in banda di valenza collidano con la stessa frequenza in generale avranno dei meccanismi di collisione un po' diversi e quindi i tau potranno essere diversi anche magari di un fattore di vuro così va bene allora diciamo date queste equazioni del moto uno può andarsi a valutare il regime stazionario e quindi l'effetto di conducibilità sia degli elettroni che delle lacune quindi uno può andare a prendere appunto il regime stazionario in cui la derivata rispetto al tempo è andata a zero tutti gli effetti transienti sono stati superati e consideriamo per il momento il caso di campo magnetico nullo e quindi uno va a trovarsi una soluzione semplicemente portando questo tau dall'altra parte in questa equazione qua ottenendo che la velocità di drift è uguale a meno la carica elementare per tau diviso la massa in banda di conduzione per il campo elettrico analogamente per le lacune avremo una velocità che in questo caso diretta dalla stessa parte del campo elettrico perché le lacune sono cariche positivamente in cui entra in azione il tempo medio di collisione delle lacune e la corrispondente massa entrambe queste equazioni le possiamo andare a scrivere come la velocità data da un coefficiente che è meno mu e qui e più mu h qui volte il campo elettrico quindi svolgiamo una formula che esprime la risposta lineare una situazione in cui la velocità acquisita da questo gas di elettroni o da questo gas di lacune o da tutti e due risultano proporzionali al campo elettrico applicato diciamo le formule solite del parerutista diciamo che raggiunge una velocità proporzionale alla forza applicata questi coefficienti di proporzionalità quattro la velocità e il campo elettrico prendono il nome di mobilità quindi sono delle quantità che hanno delle unità di velocità diviso campo elettrico e che quindi diciamo possiamo andare a scrivere come per quanto riguarda le unità come metri al secondo diviso newton fratto coulomb unità del campo elettrico che si possono combinare come coulomb per secondo fratto chilogrammo che sono anche equivalenti a un inverso dei tesla quindi queste sono le unità della mobilità le stesse dell'inverso di un campo magnetico ok allora queste quantità le mobilità degli elettroni le mobilità delle lacune sono quantità tecnologicamente rilevanti e importanti perché più grande la mobilità significa che più sono pronti gli elettroni o le lacune ad acquisire velocità a parità di campo elettrico è in qualche modo una specie di suscettività dinamica rispetto all'applicazione di campi elettrici voilà segnalo che in altri contesti si definisce mobilità e rapporto tra la velocità e la forza applicata la forza non il campo elettrico in quel caso lì naturalmente sparisce un coulomb perché non c'è più la carica se considerate la sola forza in quel caso quella mobilità lì sarebbe semplicemente secondi fratto chilogramma ma diciamo questo è un contesto quello sarebbe un contesto diciamo di particelle neutre per esempio in cui le forze non sono di tipo elettrico quando invece avete forze di tipo elettrico è conveniente definire questa mobilità qua in termini appunto di velocità e campo elettrico va bene a questo punto si può utilizzare questi risultati per la situazione di moto stazionario in presenza solo di campo elettrico per andarsi a valutare la densità di corrente allora vi ricordate come abbiamo fatto per gli elettroni dei metalli la densità di corrente sarà data dalla densità numerica dei portatori volte la carica meno QE portata dagli elettroni volte la loro velocità media analogamente però ci sarà anche un contributo delle lacune nella banda di valenza data dalla loro densità volte la loro carica più QE moltiplicate per la loro velocità e quindi combinando le varie cose tenendo conto che la velocità degli elettroni è diretta in direzione opposta al campo elettrico ma poi c'è questo altro meno qua uno si trova una formula che ha questi due contributi del tutto analoghi dovuti agli elettroni e alle lacune quindi entrambi hanno il quadrato della carica elementare entrambi hanno la densità di portatori rispettivi elettroni e lacune entrambi hanno il rispettivo tempo di collisione numeratore e poi il denominatore entrambi si trovano le rispettive masse efficaci e la corrente naturalmente risulta proporzionale al campo elettrico come deve in modo tale che tutta questa quantità qui davanti questa costante di proporzionalità qui davanti è la quantità che chiameremo la conducibilità elettrica sigma esattamente come nei metalli diciamo la differenza rispetto ai metalli è che nei semiconduttori avremo in generale due contributi alla conducibilità quello degli elettroni e quello delle lacune allo stesso tempo abbiamo il solito comportamento ohmico resistivo di uguale sigma per e la conducibilità sigma la possiamo andare a scrivere in termini delle due mobilità quella degli elettroni e quella delle lacune volendo e quindi uno può prendersi via di questi termini qua una carica per un tempo di collezione diviso una massa che sono le quantità scritte qua e andarsi a scrivere la conducibilità in termini appunto della densità dei portatori per la loro carica volte la loro mobilità e questi sono i due contributi dei singoli portatori va bene allora diciamo normalmente le mobilità dei due portatori nella maggior parte dei casi sono simili magari sono diverse di fattori tre o quattro ma non è che siano diverse di molti ordini di grandezza nella maggior parte dei casi e quindi di fatto uno si rende conto che in situazioni normali in questa formula qua uno dei due termini tende a essere più grande degli altri tranne ovviamente nel caso intrinseco cioè se noi torniamo a questa figura qua a meno che non siamo nel caso intrinseco cioè in una situazione in cui sono circa uguali le densità dei due portatori nel qual caso diventano circa uguali i due contributi alla conducibilità in questa formula qua nelle situazioni normali in cui si opera con un semiconduttore drogato c'è un portatore di maggioranza la cui concentrazione è molti 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 ordini di grandezza più grande dell'altro e quindi di fatto di questi due termini uno dei due lo si può trascurare in un semiconduttore N si trascurerà il contributo delle lacune in un semiconduttore P si trascurerà il contributo degli elettroni appunto salvo andare in questo regime di alta temperatura in cui si torna al comportamento intrinseco quindi di fatto quello che stiamo dicendo è che la conducibilità è normalmente dominata di gran lunga dai portatori di maggioranza i portatori di minoranza danno una correzione ampiamente trascurabile magari 10-15 ordini di grandezza più piccole quindi assolutamente trascurabile e quindi diciamo l'idea è che se uno per vedere il semiconduttore drogati uno avrà appunto questo comportamento in cui la conducibilità è dominata da uno dei due portatori vediamo un attimino sperimentalmente quant'è come si comporta questa conducibilità al variare della temperatura di nuovo in una scala di 1 fratto T quindi qua c'è bassa temperatura circa 10 Kelvin qui c'è alta temperatura e diciamo da queste parti c'è la temperatura ambiente allora questo è Germano drogato con circa 10 alla 19 portatori al metro cubo 10 alla 22 al metro cubo 10 alla 24 al metro cubo quindi questo è più puro questo è un po' meno puro questo è molto sporco di droganti di tipo N e beh diciamo l'idea è che vedete a bassa temperatura la conducibilità tende a zero e ci tende a zero circa esponenzialmente vedete questo crollo qua è un andamento circa esponenziale e il motivo è che a bassa temperatura in pratica tutti gli elettroni vanno a congelarsi nei livelli di impurezza non c'è più niente negli stati delocalizzati della banda di conduzione o di valenza e quindi il semiconduttore non è più in grado di portare corrente e quindi c'è questo crollo esponenziale della conducibilità esattamente legato al crollo esponenziale della densità dei portatori di maggioranza che è quella che in questa figura qua si vede qui ecco e poi quando si sale in temperatura si raggiunge la regione in cui la concentrazione è circa fissata concentrazione fissata però non vuol dire che sia fissa anche la conducibilità la conducibilità continua a cambiare e tendenzialmente pian piano la conducibilità tende a diminuire man mano che aumentate la temperatura in questa regione di Platone la densità degli elettroni e il motivo è che la densità dei portatori è circa costante ma man mano che aumentate la temperatura come vi dicevo prima state ad aumentare il tasso di collisioni e quindi in questa formula qua o se volete nella formula della mobilità il tempo medio tra le collisioni diminuisce il tasso di collisione è 1 fratto tau le collisioni per unità di tempo quello aumenta quindi tau diminuisce diminuendo tau il risultato è che la conducibilità diminuisce progressivamente questo è semplicemente l'effetto dei fononi aumentano i fononi e quindi si riduce della conducibilità poi a un certo punto si arriva al comportamento intrinseco cioè l'improvviso o quasi all'improvviso come questo succede all'improvviso in questa scala 1 su t se invece uno lo guarda in scala t questo succede un po' più dolcemente in ogni caso la concentrazione dei portatori sale e comincia a salire esponenzialmente qua vedete una scala logaritmica quindi qua si decuplicano nel giro di una cinquantina di gradi Kelvin e questo aumento rapido dei portatori fa sì che la conducibilità esplosivamente cresca ed è questo andamento tratteggiato qua ok allora tutto ciò vale a questa concentrazione vale a quest'altra concentrazione più grande qua e le cose succedono un po' più tardi per via di altri effetti di collisioni legati alle impurezze qua insomma ci sono altre questioni naturalmente la concentrazione più alta dei difetti a concentrazioni molto alte dei difetti diventa sbagliato circa tutto quello che vi ho detto e come mai beh diciamo quando si ha una concentrazione così alta tipo 10 alle 24 difetti al metro cubo uno deve cominciare a preoccuparsi dell'approssimazione di difetto indipendente ogni difetto non sta veramente lontano dagli altri a questo livello di concentrazione succede che la distanza media difetto difetto diventa confrontabile con il raggio di Bohr efficace se vogliamo della funzione d'onda con cui decade la funzione d'onda dello stato localizzato intorno al difetto diciamo rispetto alla posizione del difetto stesso e quindi in pratica questi difetti vanno a sovrapporsi l'uno all'altro formando degli stati delocalizzati quindi gli elettroni sono in grado di oppare da un difetto all'altro quantisticamente e quindi vanno a formare una piccola banda sostanzialmente quello che nella figura che abbiamo ripreso molte volte ormai con la densità degli stati era una delta di Dirac al livello del difetto si va ad allargare un pochettino formando una banda una piccola bandina che ha una certa densità degli stati finita in un piccolo intervallo e questi stati sono in grado di condurre elettricità quando la concentrazione è così alta dei difetti di fatto uno si trova una specie di metallo col potenziale chimico piazzato lì dentro e questo metallo è in grado di portare elettricità da un posto all'altro senza bisogno di promuovere elettroni nella banda di conduzione e pertanto la conducibilità rimane finita anche alle basse temperature va bene direi che un buon momento per fare pausa ci sono domande? dai ricominciamo allora stavamo discutendo che succede per la conducibilità di un semiconduttore estremamente impur estremamente drogato drogato con un'alta concentrazione di impurezze e abbiamo visto che per colpa se vogliamo dell'overlap delle funzioni d'onda degli stati localizzati di impurezza che a questo punto sono così vicine per cui questi stati si overlappano si ha una conducibilità che almeno a basse temperature risulta praticamente indipendente della temperatura e questo perché A la concentrazione di portatori in questi livelli di impurezza non cambia poi molto con la temperatura e B anche il tempo di collisione a queste temperature per un intervallo in realtà abbastanza ampio è dominato dall'effetto dei difetti delle impurezze stesse quindi lì i fononi cominciano a entrare in gioco soltanto più in avanti e a quel punto in realtà quando cominciano ad entrare in gioco i fononi si cominciano a sentire degli effetti di promozione di elettroni in banda di conduzione dove si muovono meglio e finalmente poi effetti intrinsici ok volevo sottolineare che le impurezze sono piazzate a casaccio dentro nel semiconduttore quindi diciamo non è che siano piazzate periodicamente come un cristallo nonostante questo quando la loro concentrazione diventa sufficientemente alta sono lo stesso in grado di condurre e questo diciamo succede con un meccanismo simile a quello che si ha per esempio nei metalli liquidi se pigliate il mercurio che è liquido a temperatura ambiente ma anche un altro metallo non so ferro così lo scaldate fino alla temperatura di fusione anche quando è liquido lui è in grado di condurre l'elettricità e questo suggerisce che la conduzione elettrica da parte degli elettroni e dei metalli non richieda proprio l'ordine periodico il teorema di Bloch una volta che avete degli stati abbastanza delocalizzati e estesi il materiale riesce comunque a condurre l'altra cosa su cui volevo attirare la vostra attenzione è diciamo il valore qua di questa scala cioè circa da 10 alla 4 a 1 ohm al metro confrontiamo un attimino con questi valori con le conducibilità che abbiamo discusso per i metalli nelle lezioni precedenti ricordate i valori tipici di conducibilità dei vari elementi metallici si aggirano nell'ordine di alcune volte 10 alla 7 ohm per metro scusate ohm uno fatto ohm per metro beh questo si suggerisce che i semiconduttori sono dei conduttori molto molto peggiori dei metalli e questo è dovuto essenzialmente al fatto di averci delle densità di portatori molti ordini di grandezza più basse quindi questo è il motivo principale ok dopodiché qua Uc All fanno tutta una serie di ragionamenti per mettere in relazione i valori osservati di conducibilità appunto dell'ordine di qualche o qualche migliaio di uno frattore per metro e con le con le dimensioni se vogliamo dei centri di scattering cioè in qualche modo viene fatta l'assunzione che lo scattering dei portatori sia dominato dalle impurezze cosa che è vera fino a un certo punto naturalmente è vera a temperature basse e a temperature intermedie diventa meno chiaro dipende dalla concentrazione dell'impurezza dipende da vari dettagli comunque se avete voglia provate a seguire un attimino questo ragionamento per cui di fatto vengono valutate le sezioni d'urto efficace delle impurezze che corrispondono se vogliamo ai raggi di collisione di queste impurezze che sono in effetti abbastanza simili ai raggi di Bohr degli stati legati di cui stiamo parlando degli stati di impurezza alcune decine di nanometri di grandezza dopodiché appunto non è che sia particolarmente essenziale questo ragionamento qua forse diciamo l'unica novità abbastanza interessante è il fatto che uno va a stimare queste energie di collisione tenendo conto delle velocità tipiche degli elettroni delle energie tipiche cinetiche degli elettroni nella banda di conduzione o delle lacune nella banda di valenza e queste energie cinetiche a differenza di quello che succede nei metalli che sono essenzialmente in quel caso uguali all'incirca all'energia di fermi e alla velocità di fermi per gli elettroni nei semiconduttori le energie cinetiche quindi l'eccesso di energia rispetto al fondo della banda di conduzione se vogliamo queste energie cinetiche sono legate alle eccitazioni termiche di fatto questi portatori nelle bande dei semiconduttori sono essenzialmente classici sono dei gas classici di fatto e quindi questo fa sì che la sezione d'urto contro le impurezze dipenda anche lei un pochino dalla temperatura però vabbè un po' un dettaglio così non particolarmente essenziale più interessante invece è andare a vedere che succede in presenza di campo magnetico abbiamo già studiato l'effetto Hall nel caso di metalli di cristalli metallici e vi ricordate la situazione quella in cui viene applicato un campo magnetico trasverso al materiale anzi vediamo se riesco a pescare la figura qua dell'effetto Hall eccola qua un campo magnetico in direzione z una corrente in direzione x e questo determina la formazione di un campo elettrico trasverso che va a opporsi alla forza di Lorenz che cercherebbe di deviare i portatori di carica dalla loro traiettoria parallela alla corrente va bene e che succede nei semiconduttori allora nei semiconduttori come in qualunque materiale uno può comunque andare a definire un coefficiente di Hall definito in questa maniera qua il campo elettrico trasverso di Hall è dato dal coefficiente di Hall RH per il prodotto vettoriale del campo magnetico per la densità di corrente e quindi se vogliamo in questo caso qua il campo elettrico in direzione y è uguale al coefficiente di Hall per campo magnetico in direzione z volte la corrente in direzione x se uno prende tutto ben perpendicolare e nel caso di un metallo vi ricordate il coefficiente di Hall risultava pari normalmente insomma a un valore negativo meno 1 fratto la densità degli elettroni della banda di conduzione per la carica elementare in effetti la situazione per i semiconduttori in cui c'è di gran lunga dominanza di un tipo di portatore o di un altro quindi i semiconduttori drogati con un chiaro tipo di portatore di maggioranza il ragionamento che si è fatto li vale uguale e pertanto se appunto se n è molto più maggiore di p uno può trascurare le lacune in banda di rivalenza il coefficiente di Hall non potrà che essere lo stesso meno 1 fratto la densità dei portatori per la carica elementare viceversa in un semiconduttore drogato p in cui le lacune dominano sugli elettroni uno fratto la densità di queste lacune per la carica elementare quindi il segno è opposto e prima di tutto questo segno ci suggerisce un trucco semplicissimo per rendersi conto se un campione di semiconduttore che vi capita tra le mani senza specifiche di fabbrica si è drogato p o n poi fate la misura dell'effetto Hall e immediatamente dal segno di questa misura capite se è drogato p o n quindi questo già risponde a una prima domanda in maniera semplice inoltre se uno va a misurare non solo l'effetto Hall ma anche la conducibilità sigma sempre in una situazione in cui sia dominante un tipo di portatori per cui per esempio se il semiconduttore è drogato n la conducibilità è data soltanto da questo pezzettino qua n per e per mu per la mobilità degli elettroni beh vi accorgete che se voi andate a moltiplicare la sigma quindi questo termine è trascurabile lo trascuriamo se moltiplicate la sigma per il coefficiente di Hall Rh il prodotto n per e si cancella quindi la densità dei produttori e la carica alimentare si cancella e vi rimane solamente la mobilità a parte un eventuale segno più o meno secondo del segno appunto del coefficiente di Hall ma se lo prendete in valore assoluto questo vi dà direttamente una misura della mobilità dei portatori quindi questo vi dà una tecnica sperimentale standard per misurare la mobilità dei portatori in un dato semiconduttore misurate i coefficienti di Hall prendete il modulo lo moltiplicate per la conducibilità e avete la mobilità ovviamente tutte queste quantità sono funzioni della temperatura in particolare la conducibilità lo è e anche la mobilità cambierà con la temperatura quindi uno può fare delle tabelle di mobilità a diverse temperature ok qua diciamo abbiamo fatto un esempio numerico di quanto potrebbe risultare il coefficiente di Hall nel caso di un semiconduttore con un drogaggio pari a 10 alla 22 elettroni al metro cubo la carica elementare fa 10 alla meno 19 coulomb e quindi andando a fare questa moltiplicazione il risultato riviene 10 alla meno 3 metri cubi fratto coulomb che volendo si può scrivere anche ohm per metro fratto tesla allora questo risultato qua andrebbe confrontato con gli analoghi risultati per i metalli i quali hanno una densità che è tipicamente almeno 6 ordini di grandezza più grande si viaggia sui 10 alla 28 10 alla 29 elettroni al metro cubo nei metalli e quindi questo fa sì che il coefficiente di Hall nei semiconduttori sia tipo 6 ordini di grandezza più grande poi dipende dai dettagli del doping meno drogate semiconduttore più piccola la densità e quindi più grande risulta il coefficiente di Hall allora questo coefficiente di Hall come abbiamo appunto visto qua mi dà un'idea dell'entità della grandezza del campo elettrico che si sviluppa in direzione trasversa alla corrente a per unità diciamo di campo magnetico e di corrente di densità di corrente che stanno circolando quindi più grande questo coefficiente di Hall più piccoli campi magnetici o piccole correnti sono necessarie per determinare uno stesso campo elettrico trasverso o viceversa diciamo ha fissato campo magnetico e carico corrente ottenete un più grande campo elettrico trasverso d'accordo? in effetti questo vi dice che se fate l'esperimento dell'effetto Hall nei metalli ottenete sempre dei campi trasversi piccolissimi a meno che non ripocuriate dei campi magnetici mostruosi che in pratica non è possibile difficilmente in laboratorio si riesce a superare diciamo i 10 Tesla nei laboratori normali e quindi invece nei semiconduttori no nei semiconduttori il campo trasverso può essere anche molto grande può essere in particolare in certi casi tanto grande quanto il campo elettrico che sostiene il passaggio della corrente in direzione X questa è la situazione in cui vi trovate che il campo elettrico totale la somma del campo elettrico esterno che sostiene la corrente più il campo elettrico di Hall danno un campo elettrico che è diretto a 45 gradi rispetto alla direzione della corrente naturalmente questo dipende da quanto è il campo magnetico perché per l'appunto l'ampiezza del campo elettrico trasverso è funzione del campo magnetico quindi ci sarà un unico campo magnetico ben preciso che fa sì che il campo elettrico trasversale sia esattamente uguale a quello che mantiene la corrente questo campo magnetico ben preciso che da questo angolo tra il campo elettrico di volo e il campo elettrico che mantiene la corrente di 45 gradi prende il nome di B0 quindi B0 è proprio il campo in cui si riesce a realizzare un angolo di 45 gradi tra campo elettrico corrente e allora se uno va a appunto utilizzare questa definizione e sostituirla dentro nelle formule che vi danno il campo elettrico trasverso uno si accorge che nella formula della conducibilità che vi dà il campo elettrico in direzione longitudinale in direzione x se vogliamo uno si accorge che può scrivere questo valore del campo del campo di Hall che vi dà questo 45 gradi del campo elettrico in questi termini qua come uno diviso il modulo del coefficiente di Hall volte la conducibilità ma il prodotto del coefficiente di Hall per la conducibilità abbiamo visto prima vi dà proprio la mobilità quindi di fatto il campo magnetico di Hall è uguale a uno fratto la mobilità ricordo come abbiamo visto prima che la mobilità si misura in queste unità per cui sono di fatto degli inversi di Tesla quindi va benissimo perché ci troviamo che questo campo magnetico di Hall sia l'inverso di una mobilità quindi semplicemente l'inverso di un campo magnetico vi dà una mobilità nelle corrette unità del sistema internazionale quindi per esempio se trovate un campo di Hall di un Tesla vuol dire che la mobilità è uno fratto un Tesla ok il fatto di avere questi campi di Hall trasversi così grandi così molti molti di grandezza più grandi nei semiconduttori che nei metalli rende i semiconduttori drogati non troppo dei sensibili sensori di campo magnetico di fatto se voi fate passare una corrente in un filo di semiconduttori drogato non troppo e andate a misurare il campo elettrico perpendicolare alla corrente andate a misurare il campo magnetico perpendicolare a entrambe le direzioni che state misurando quella della corrente e quella rispetto a cui misurate il campo magnetico quindi potete andare a misurare appunto le varie componenti di campo magnetico con un congegno che è estremamente semplice è un pezzettino di semiconduttore drogato in cui fate passare una piccolissima corrente quindi questo permette di costruire dei misuratori di campo magnetico e questi non sono oggetti particolarmente alieni perché è molto probabile che li abbiate anche per esempio nei vostri telefoni cellulari segnalo in particolare questa app qua che trovate su tutti i vari store la Physics Toolbox Sensor Suite che vi permette di prendere controllo dei vari sensori che ci sono dentro nei cellulari tra cui vari accelerometri misuratori di prossimità eccetera ma tra i vari è molto probabile che il vostro cellulare abbia anche un misuratore di campo magnetico e con questa app potete anzi posso anche farla partire visto che ce l'ho pure potete andare a pescare le varie componenti di campo magnetico allora vedete magari togliamo lo sharing così vedete la telecamera non so quanto vedete c'è tutta una lista di possibili sensori qua elencati tra cui c'è magnetometer uno seleziona il magnetometer e l'app va a registrare in funzione del tempo le varie componenti di campo magnetico che registra in questo momento naturalmente il campo magnetico in questo momento presente soprattutto quello terrestre e quindi io ruotando l'app vado a modificare ruotando il cellulare scusate vado a registrare le diverse componenti di campo magnetico rispetto agli assi principali del cellulare voilà e questo viene fatto ovviamente con dei sensori basati su semiconduttori e sull'effetto hall come stavamo dicendo ora torniamo a condividere lo schermo yes e torniamo qui al nostro al nostro hook hall bene allora diciamo tutto ciò è abbastanza semplice e funziona in maniera molto priva di problemi quando ci troviamo con semiconduttori estrinseci con un chiaro tipo di doping per cui è possibile completamente trascurare i portatori dell'altro tipo cioè ci sono dei portatori in maggioranza la cui concentrazione è assolutamente dominante rispetto a quelli di minoranza naturalmente non è sempre il caso per esempio semiconduttori molto puri a basso livello di doping o a temperature alte si trovano a avere concentrazioni di portatori di maggioranza di minoranza simili allora in questo caso la situazione è un po' diversa è un po' diversa perché tutti diciamo questi risultati il fatto che il coefficiente di hall sia dato da meno 1 fratto n per e o 1 fratto P per e sono il risultato dell'avere imposto che la corrente dei portatori sia nulla nella direzione perpendicolare alla corrente la direzione J dove fluisce la corrente J perché di fatto non si trova a circuito aperto in questa direzione qua e quindi non può fluire la corrente se non in un breve transiente iniziale che costruisce l'accumulo di cariche sulle due facce del filo beh allora questa assunzione qua è corretta se uno può trascurare uno dei due tipi di portatori ma diventa sbagliata se entrambi i portatori sono presenti nello stesso momento con concentrazioni significative in questo caso le equazioni stazionarie diciamo che le soluzioni delle equazioni stazionarie che abbiamo scritto per gli elettroni e per le lacune stanno scritte qua in cui c'è una velocità degli elettroni e una velocità delle lacune entrambi legati a campo elettrico e campo magnetico con queste relazioni qua la corrente totale risulta dal contributo di elettroni e di lacune e diciamo l'unica cosa che noi possiamo andare a imporre è che la corrente totale nella direzione y cioè quella perpendicolare alla direzione del filo e al campo magnetico questa sia zero la corrente totale sarà zero in direzione y ma individualmente ciò non vuol dire che siano zero la corrente il contributo di corrente degli elettroni è quello delle lacune in effetti non saranno zero e semplicemente appunto la loro somma algebrica dalla zero ma contemporaneamente noi potremo avere moto di elettroni e di lacune in questa direzione perpendicolare al filo quindi avremo semplicemente queste correnti che sono uguali ed opposte tanta carica porteranno gli elettroni da un lato all'altro quanto le lacune nella stessa direzione dal lato all'altro in modo tale che alla fine siccome le une sono cariche positive le altre sono cariche negative e alla fine la corrente totale risulta nulla va bene quindi diciamo uno poi si può mettere lì e fare un po' i conti per bene e qua Huck-Hall fanno l'esempio del calcolo nel limite di campo magnetico debole cioè in cui uno può circa trascurare o dire che sono piccole proporzionali al campo magnetico le componenti perpendicolari di velocità in questo ragionamento qua insomma alla fine uno si trova un coefficiente di Hall che tiene conto contemporaneamente delle concentrazioni di entrambi i portatori lacune ed elettroni e delle loro mobilità quindi la formula del coefficiente di Hall vedete molto più complicata di quella che avevamo trovato prima e non solo uno può anche calcolarsi questa corrente o degli elettroni o delle lacune tanto sono uguali a parte il segno trasverse che portano corrente trasversa rispetto al filo ora naturalmente per avere questo trasporto di corrente trasversa quello che uno deve fare è andare a portare via gli elettroni e le lacune da un lato del filo quindi diciamo da questa faccia per esempio uno va a distruggere elettroni e anche le lacune che poi vanno ad accumularsi da questa parte qua ma una volta che uno ha un accumulo eccessivo rispetto alla termodinamica di elettroni e di lacune quello che faranno è di ricombinarsi quindi gli elettroni in eccesso e le lacune in eccesso potrebbero ricombinarsi per continuare a fornire in maniera stazionaria i elettroni e lacune a questa faccia qua uno deve fornire dell'energia quindi è necessario continuare su questo lato qua a promuovere i elettroni della banda di valenza alla banda di conduzione analogamente in questa regione qua invece sulla faccia opposta ci saranno continuamente degli elettroni in eccesso in banda di conduzione che andranno a decadere in banda di valenza ogni volta che succedono questi processi su questo lato qua uno deve pagare un'energia pari al gap di energia della banda di valenza alla banda di conduzione e su questo lato qua uno va a recuperare questa energia ma siccome appunto sono in due posti diversi che succedono questi fenomeni in pratica l'energia che viene tolta qua va a raffreddare il materiale su questo lato qua e l'energia accumulata su questo lato di qua va a riscaldare il materiale sul lato opposto quindi di fatto questa corrente trasversa dà luogo a uno spostamento di calore questo spostamento di calore quindi un gradiente termico trasverso che si forma ai lati di un semiconduttore quando viene fatto un esperimento di Hall prende il nome di effetto Ettingshausen notate che qua lo spelling è sbagliato il vero spelling c'è una S qua e uno di questi effetti termoelettrici di cui poi magari parleremo nella parte finale del corso un'altra cosa che succede è che le correnti degli elettroni delle lacune nella direzione Y vanno a accoppiarsi al campo magnetico in direzione Z e determinano quindi delle forze in direzione X voi fate il prodotto vettoriale velocità per campo magnetico ottenete una forza e la forza in direzione X questo se andate a guardare molto bene come è messa questa forza vi accorgete che questa forza è messa in modo da dirigersi opposta alla velocità in direzione X dei portatori di carica quindi va sempre a opporsi alla velocità in direzione X quindi tende a rallentare la corrente J sopportata dal campo elettrico in direzione X e questo effetto naturalmente in prima approssimazione è proporzionale al campo magnetico cioè la velocità perpendicolare è proporzionale al campo magnetico e quindi uno si trova ad avere un aumento efficace della resistenza è come se ci fosse qualcosa che rallenta gli elettroni nel loro moto lungo X proporzionale al campo magnetico è quello che si chiama una magnetoresistenza che in realtà alla fine risulta che dipende quadraticamente nel campo magnetico per piccoli campi magnetici diciamo gli ho riscritto una cosa in maniera qualitativa però diciamo quantomeno è utile rendersi conto che tutti questi effetti sono possibili invece non ci sono nel caso dei metalli in cui c'è un solo tipo di portatore una sola banda un solo tipo di portatore in azione ok l'ultima faccenda legata a semiconduttori e campi magnetici di cui vorrei parlare è quella della risonanza di ciclotrone avevamo già accennato questa cosa della frequenza di ciclotrone a suo tempo parlando di moto in campo magnetico però di fatto insomma nei metalli la cosa è abbastanza poco rilevante mentre diventa particolarmente rilevante ed importante per i semiconduttori allora ricordate dicevamo che il ciclotrone è un apparato in cui nel vuoto uno spara degli elettroni e mettendoci un campo magnetico perpendicolare alla loro velocità questi cominciano a immettersi su traiettorie circolari o spirali formi ma comunque con una frequenza angolare di percorrenza di questa orbita circolare data dal prodotto della carica per il campo magnetico divisa per la massa degli elettroni ora questo succede nel vuoto negli apparati che sono appunto i ciclotroni ma lo stesso fenomeno succede anche dentro alla materia dentro a un cristallo e in particolare questo è particolarmente rilevante per i semiconduttori i portatori dei semiconduttori quando il semiconduttore è immesso in un campo magnetico potranno seguire delle traiettorie che saranno delle traiettorie circolari o spirali formi a causa della forza di Lorenz che tende a deviarli dal loro traiettorie a rettilinea e in effetti gli esperimenti che vanno a misurare questo tipo di effetti permettono di determinare le masse efficaci dei portatori consideriamo per il momento la situazione in cui c'è un solo tipo di portatori così non ci complichiamo troppo la vita per esempio delle lacune e andiamo a riscriversi le equazioni quelle che abbiamo scritto prima per componenti soltanto quelle lungo x e lungo y perché prendiamo il campo magnetico b diretto lungo z e la forza di Lorenz non ha nessun effetto in direzione z quindi per quanto riguarda il moto lungo z se c'è un campo elettrico eventualmente ci sarà una corrente se non c'è neanche un campo elettrico semplicemente non c'è velocità in direzione z quindi le componenti interessanti sono x e y e a questo punto andremo a considerare le equazioni incomplete cioè quelle anche con le derivate rispetto al tempo quindi non una situazione stazionaria perché abbiamo in mente la possibilità che questi elettroni si muovano in funzione del tempo con delle traiettorie più o meno complicate allora qua abbiamo le equazioni scritte esplicitamente in cui ho portato sul lato opposto la massa quindi qua ci serve stata una massa e è stata portata sul lato di là e questa è la solita forza di Lorenz in componente x che c'è dentro la velocità lungo y in componente y c'è dentro la velocità lungo x proprio questi termini qua sono quelli che sono responsabili per determinare la traiettoria circolare quindi queste componenti di forza che sono sempre perpendicolari alla velocità fanno sì che l'elettrone venga continuamente curvato o in questo caso la lacuna venga continuamente curvata e si metta su una traiettoria circolare allora per andare a risolvere queste equazioni rendersi conto di queste traiettorie circolari un possibile trucco è andarsene a scrivere come numeri complessi cioè andarsene a scrivere il vettore velocità nel piano xy come un vettore nel piano complesso cioè dire che la componente x è la sua parte reale e la componente y è la sua parte immaginaria analogamente il campo elettrico eventualmente applicato a questi elettroni o lacune per metterli in moto lo scriveremo di nuovo come una componente x più una componente y e vabbè quindi queste coppie di equazioni reali le possiamo andare a sostituire con una singola equazione per le quantità complesse quindi per il numero complesso u che esprime la velocità istantanea in componenti x e y degli elettroni o delle lacune in questo caso dove x e y sono semplicemente parte reale e parte immaginaria vedete che il vantaggio di scriversi le cose in termini di numeri complessi è che tutte le quantità in cui x e y stanno accoppiate direttamente si lasciano come sono quelle in cui si scambiano x e y si ottiene semplicemente moltiplicando per i quando moltiplicate per l'unità immaginaria di fatto scambiate parte reale e parte immaginaria e mettete un segno opportuno che è stato valcolato in modo da darvi giustamente queste componenti ok a questo punto si fa il solito trucco di immaginare di eccitare il il vostro il vostro gas di lacune in questo caso tramite un campo elettrico oscillante nel tempo e lo si scrive in questa maniera qua cioè lo si scrive come un E0 per E alla I omega t e di fatto se prendiamo E0 reale questa eccitazione qua di fatto è un'onda polarizzata circolarmente cioè avete un campo elettrico che ha componenti X e Y che sono una coseno e l'altra seno di omega t in modo tale che questo corrisponde a un andamento oscillante ruotante poi in pratica nell'esperimento vedremo subito che non si fa proprio così ma diciamo concettualmente sarebbe bello poter fare così eccitare il semiconduttore con un campo elettrico ruotante a frequenza omega decisa da noi immaginiamo di avere un generatore di campo elettrico ruotante a frequenza regolabile da parte nostra diciamo questo campo ruotante in pratica è generato con delle onde elettromagnetiche e a queste frequenze di cui stiamo parlando che sono dell'ordine delle decine di megahertz la componente di campo magnetico legata all'onda elettromagnetica è assolutamente trascurabile quindi ce ne fischieremo l'unico campo magnetico significativo è quello lungo z va bene allora naturalmente dato questo tipo di eccitazione le soluzioni che andremo a cercare di questa equazione differenziale le andremo a cercare come una u0 per e alla i omega t cioè una costante una quantità indipendente dal tempo per lo stesso andamento e alla i omega t dove naturalmente questa non è la soluzione più generale di questa equazione differenziale è semplicemente è la soluzione dello stato stazionario se vogliamo quello in cui effetti di transiente li possiamo ignorare all'inizio quando noi accendiamo il nostro sistema avremo degli effetti transienti che però decadranno esponenzialmente grazie al termine di attrito e quindi alla lunga dopo che aspettiamo abbastanza tempo avremo sicuramente un andamento in cui questi transienti sono dimenticati e l'unica frequenza che rimane eccitata nel moto di queste lacune è la stessa frequenza omega con cui noi andiamo a eccitare u0 vi dà l'ampiezza di questa velocità ed è anche lei in generale complessa e di nuovo le fasi della quantità u0 vi dicono eventuale ritardo anticipo di fase della velocità rispetto al campo elettrico che la stimola ok al solito poi si piglia questo ansas di soluzione lo si sbatte nell'equazione differenziale quando si fa la derivata questo butta giù un fattore i omega e poi diciamo tutto quanto ha un fattore comune e alla i omega t che si può semplificare dappertutto ce l'ha sia il campo elettrico sia tutti i termini legati alla velocità u0 quindi in pratica rimarrà dappertutto u0 al posto di u u0 qua u0 qua e qua il campo elettrico è 0 a questo punto si può andare a ricavarsi u0 portando questo termine da questa parte dell'uguale e poi andando a dividere per tutto quello che non è u0 si trova appunto un campo magnetico per e diviso la massa e vi ricordo che appunto il campo magnetico per e diviso la massa è proprio la frequenza di ciclotone omega c che quindi compare qua sostanzialmente quando andiamo a fare questa inversione questa divisione ci si trova con un u0 che è data da un coefficiente che ho evidenziato con questi segni gialli molte e 0 quindi di fatto questa cosa qui questo coefficiente qua è il coefficiente che ci dà la risposta lineare della velocità rispetto al campo elettrico applicato e siccome vabbè u0 e d0 sono entrambi legati al vero campo elettrico e alla vera velocità mettonoci in entrambi un fattore e alla i omega t che è lo stesso in pratica questa quantità evidenziata è proprio la mobilità la mobilità dipendente dalla frequenza quindi di fatto ci siamo ottenuti che in questo sistema abbiamo una mobilità che è funzione della frequenza data da questa formula qua una mobilità complessa funzione della frequenza il segno meno ha a che vedere con quel verso di rotazione delle lacune c'è un senso orario un senso antiorario la convenzione in qualche modo sembra suggerire di prendere un meno per le lacune o più per gli elettroni che gireranno nel senso opposto ok in effetti uno può andare a guardare i segni di rotazione intorno al campo magnetico di queste di queste di queste cariche ora quella risposta che abbiamo ottenuto assomiglia molto alla risposta di un circuito elettrico LRC come quello disegnato qua cioè se voi andate a fare l'oscillatore LRC con una induttanza una capacità una resistenza e lo stimolate con un campo elettrico dipendente dal tempo in questa maniera oscillante beh vi troverete una corrente stazionaria anche lei oscillante alla stessa frequenza e con un andamento risolante con un andamento che nel limite di Q factor di fattore di qualità alto cioè quando la frequenza di risonanza ωR che in quel caso lì è 1 fratto il prodotto di L per C alla 1 mezzo l'utanza per capacità alla 1 mezzo è molto più grande dell'inverso di del tau del tempo medio di collisione nel nostro caso è dell'equivalente legato alla resistenza nel nel caso del circuito risonante e vabbè quindi diciamo uno va a trovarsi una situazione in cui la risposta come è fatta? beh è una risposta piccata a una ben precisa frequenza cioè nel circuito risonante quando ωR diventa vicino alla frequenza di risonanza data appunto dalla indottanza della capacità del circuito risonante uno si trova ad avere un forte corrente per piccolo potenziale applicato analogamente la cosa succede per noi cioè per gli elettroni nel semiconduttore quando ωR si avvicina alla frequenza di ciclotone questa differenza tende a essere zero e quindi l'unico termine che rimane è questo termine legato al dumping alla dissipazione legata appunto alle collisioni degli elettroni o delle lacune e quindi si ha un picco nella velocità degli elettroni quindi gli elettroni si muovono tanto hanno una grande mobilità quando si va proprio alla frequenza giusta risonante viceversa allontanandosi dalla frequenza di ciclotone di risonanza questa frazione tende a diventare molto piccola e quindi gli elettroni si muovono molto molto poco una piccola ampiezza a parità di campo elettrico applicato va bene? naturalmente quando gli elettroni si muovono tanto anche dissipano tanto e quindi uno si accorge andando a misurare la potenza trasferita dal campo elettrico verso il suo semiconduttore che ci sarà un massimo di potenza trasferita proprio alla frequenza di ciclotone ok com'è che uno dovrebbe fare un esperimento in questo tipo di semiconduttore quindi diciamo l'idea dovrebbe essere uno prende un pezzo di semiconduttore lo piazza in un campo magnetico fissato ci manda sopra un campo elettrico ruotante perpendicolare al campo magnetico e va a misurare la potenza trasferita dal campo elettrico al semiconduttore al variare della frequenza omega di rotazione di questo campo elettrico questo sarebbe bello fare così ma poi in pratica non si può fare di fatto la cosa funzionerebbe estremamente male quindi quello che si può fare in realtà per fare questi esperimenti è sfruttare le cavità a microonde quindi qua stiamo parlando di frequenza decine di megahertz quindi si usano appunto microonde e le microonde stanno molto bene nelle guide nelle guide d'ondan in pratica in scatole metalliche quindi si può andare a costruire in maniera molto stabile molto ben precisa delle scatole metalliche in cui viene indotto dentro un campo elettrico oscillante semplicemente mettendoci dentro attraverso un bucherellino nella scatola un'antenna collegata con un cavo quarsiale a un generatore di frequenza di campo elettrico oscillante quindi quello che in sostanza uno può fare è andare a eccitare uno dei modi normali di cavità di questa scatola metallica ok facendo così in pratica è molto facile generare un campo elettrico oscillante che determina quindi una polarizzazione del campo elettrico lineare non un campo elettrico rotante corrispondente quindi a dei fotoni polarizzati circolarmente va bene quindi di fatto uno non va a stimolare gli elettroni a girare in un senso o le lacune generali a girare nell'altro senso li va a stimolare tutti e due mandando un campo elettrico polarizzato linearmente e il motivo è che un campo elettrico polarizzato linearmente in pratica corrisponde a una combinazione di una polarizzazione circolare verso destra e una polarizzazione circolare verso sinistra qua dicono plane polarizer radiation vuol dire semplicemente linear polarizer radiation campo elettrico polarizzato linearmente quindi sostanzialmente è come se uno stesse mandando una combinazione lineare di polarizzazione destra e polarizzazione sinistra con la stessa ampiezza contemporaneamente allora di fatto questa stimolazione degli elettroni e delle lacune in una sola direzione può eccitare contemporaneamente sia gli elettroni che le lacune non ci sono problemi però diciamo c'è la difficoltà invece che queste scatole queste scatole metalliche che di fatto sono dei risuonatori di microonde risuonano a delle ben precise frequenze anzi sono degli ottimi risuonatori con un q factor molto preciso a una ben precisa frequenza ma non è possibile non è proprio pensabile pensare di andare a eccitare a frequenze diverse se uno lo fa si trova che il campo elettrico varia di ordine di grandezza da una frequenza all'altra quindi uno deve loccarsi su una ben precisa frequenza e eccitare quella che deve essere quella di un modo normale della cavità giusto allora quando uno fa questo si perde la possibilità di esplorare le frequenze diciamo uno avrebbe voluto fare esperimento modificando le frequenze e andando a toccare le frequenze di risonanza ma non può farlo allora com'è il trucco il trucco è che si può andare a modificare invece il campo magnetico quindi vedete in pratica in questi esperimenti di risonanza di ciclotone uno lascia la frequenza fissa alla frequenza delle decine di gigahertz appunto di risonanza della scatola e poi va a esplorare al variare del campo magnetico le risonanze che va a trovare in pratica quindi nelle formule che abbiamo scritto qua non si varia la omega ma si varia la omega c però alla fine il risultato è lo stesso perché quando omega e omega c diventano vicine non importa sia omega che cambiava o omega c che cambiava alla fine quando diventano vicine si ha un picco di risposta e quindi una maggiore dissipazione quindi di fatto uno va a trovarsi dei picchi di assorbimento di energia da parte del semiconduttore che va a sottare quindi energia alla cavità risonante in modo particolarmente efficace a certe frequenze e appunto visto che la radiazione nel campo elettrico applicato è polarizzato linearmente e quindi non circolarmente non è possibile distinguere tra elettroni e lacune e quindi in pratica si trovano risonanze corrispondenti sia agli elettroni sia alle lacune allora tornando alla formula della frequenza di ciclotrone qua dov'è? eccola qua vedete che la formula di risonanza di ciclotrone lega il campo magnetico con la carica elementare la quale è quella che è e non si può cambiare ma anche con la massa che per gli elettroni nel vuoto è semplicemente la massa degli elettroni la vera massa degli elettroni è quella che trovate nelle tabelle delle costanti mentre nei semiconduttori è la massa efficace nella banda di conduzione o nella banda di valenza quindi di fatto questo tipo di esperimenti è un tipo di esperimenti che determinando la posizione di queste risonanze vi determina i valori delle masse efficace dei portatori e vedete che vi trovate vari picchi corrispondenti alle diverse masse efficaci perché in realtà non c'è solo una massa degli elettroni o una delle lacune visto che nei semiconduttori in questo caso silicio le curvature delle bande sono diverse in diverse direzioni e quindi ci sono diverse masse efficaci che si vengono a misurare va bene ci sono domande ok direi che anche